Non riesce lo Staletti a ritornare alla vittoria casalinga, subendo anche oggi una sconfitta interna dal Terina. Vittoria che manca alla squadra di casa dal lontanissimo 6 novembre 1-0 contro il Soverato. Poi nel mese di dicembre addirittura due sconfitte e un solo pareggio, il 2-2 con il San Calogero. Una brutta partita, abbiamo assistito oggi alla comunale di Staletti tra Staletti e il Terina, che ha avuto la meglio proprio con un gol nel primo tempo segnato da Consoli, però nulla di più da parte della squadra ospite e nulla di tanto anche per la squadra di casa, che si è dimostrata slegata, non ha saputo costruire gioco e purtroppo giocando in questo modo male per lo più non si riesce a venire a capo, tant'è vero che non ha raggiunto nemmeno il pareggio per quantomeno non dover subire la sconfitta ancora una volta tra le mure amiche. Questo fatto del Staletti che rimane un pochettino incerto perché non riesce a dare lo sbocco a questo campionato, poteva sperare di rientrare almeno nelle zone, non diciamo altissime della classifica, perché ancora è abbastanza lontano per quanto riguarda la zona playoff, però quantomeno dare un senso al proprio campionato. Domenica prossima si concluderà, anzi più che domenica prossima, la prossima partita esattamente l'8 gennaio si concluderà il girone di andata e la trasferta di Rombiolo, la prima in classifica, sarà senz'altro tra quelle proibitive. Nulla da aggiungere per questa partita perché effettivamente abbiamo visto pochissimo sia da una parte che dall'altra la squadra di Nocera Tirinese ha avuto il merito di segnare quel golletto che quantomeno le ha dato questi tre punti nella vittoria esterna, una squadra che d'altra parte ricordiamolo domenica scorsa, anzi sabato scorso per la precisione era riuscita a tenere sul pareggio nella capolista fronti. È tutto dallo stadio di Staletti, la linea allo studio. Moira il Django